Elisa Lapaglia, avete voluto replicare con una conferenza alla quale hanno partecipato consiglieri di altri partiti politici, ricordiamo Bonato per la Lega, Tommaso Ferrari per Verona Civica Traguardi e Marta Vanzetto per il Movimento 5 Stelle, oltre a lei, per dire la vostra contrarietà nei confronti di questo congresso che si svolgerà a Verona, congresso delle famiglie. Esatto, perché la loro conferenza stampa si chiamava Facciamo Chiarezza e noi vogliamo fare altrettanto, visto che ne abbiamo le prove, come si dice, visto che questa amministrazione da quando si è insediata non ha agito a vantaggio delle famiglie veronesi e le nostre proposte vere a vantaggio delle famiglie giacciono ferme in comune, quindi la sfida è facciamole seriamente le cose che oggi possono aiutare la genitorialità, le giovani madri e quant'altro, arrivano da proposte dell'opposizione queste attività, invece quello che arriva dalla maggioranza è una continua discriminazione, non riconoscimento dei diritti civili, del problema dell'omofobia, ad esempio, così come gli attacchi alle donne, che re di essere la causa di tutti i mali del paese, ma soprattutto della denatalità, come se il sostegno alla genitorialità, il sostegno al finché le donne possano si lavorare, che essere madri, non sia da tutti i dati di questo paese invece il vero motivo per cui facciamo meno figli. Ed è questo il minimo comune denominatore che ha permesso un fronte eterogeneo, come dicevamo prima, composto da più partiti politici, anche da Mauro Bonato, storico, leghista? Mauro ha detto che il motivo per cui non è più capogruppo è la contrarietà all'adesione del comune a questo convegno, che ieri sera in consiglio abbiamo scoperto essere non solo un patrocinio, ma una coorganizzazione, quindi ai cittadini evronesi costerà moltissimo. Mauro ha estratto molte delle affermazioni degli ospiti al congresso, ha chiesto le dimissioni del ministro Fontana, oggi in conferenza stampa, ritenendo molto grave la partecipazione di alcuni personaggi discutibili, per le loro affermazioni, sempre veramente molto discriminanti, quindi è una questione anche di diritti umani sta diventando. Il congresso molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, si farà. Come pensate di agire in questo caso? Farete opposizione fino all'ultimo secondo? Vi opporrete? O pensate anche magari di organizzare una contramanifestazione o un evento parallelo? Allora, diciamo che la strategia di chi ha organizzato il convegno è passare da vittime di fantomatiche lobby. Quando invece oggi in commissione hanno dimostrato di essere loro veramente poco opacci, perché non hanno voluto dire né quanto costa complessivamente il congresso e soprattutto chi lo finanzia. Però io credo che Verona avrà varie manifestazioni che si oppongono a questo congresso, alcune le organizzate, più che altro le democratiche, con tantissime altre associazioni che riguardano le donne, saranno alcune manifestazioni di controinformazione, alcune proprio molto pacifica, dimostrare cosa può essere la bellezza della vita, della famiglia, del femminismo, e altre invece dove si dimostrerà la forza di donne molto, moltissimo arrabbiate e di associazioni dei movimenti LGBT, perché evidentemente quando qualcuno dice chiaramente che ti vuole togliere dei diritti, duramente conquistati, io credo che sia legittimo far vedere anche la forza. Però ricordiamo loro che sono gli artefici della discriminazione, del volerci togliere moltissimi diritti, hanno veramente un obiettivo, quello di passare da vittime di tutto. Quindi sappiatelo e le prossime settimane andranno così.